ok dovremmo essere in grado di partire quindi riprendiamo abbiamo provato gli esempi di react ho fatto il commit sul git e quindi se volete andarvelo a vedere adesso c'è vi faccio notare solo una cosa che c'è tutto tranne breve da dire ovviamente ma insomma non lo so quanto è ovvio i nod modules ok non fate mai il commit nod modules mai non serve per l'esame non serve a niente perché perché i nod modules sono le dipendenze sono le librerie che come quando usavamo nod vengono installate ricostruite al bisogno oltre che essere 300 mega di roba buttata via no perché basta riscaricarle al bisogno quindi se io sono senza i nod modules vi faccio vedere adesso cancello tutti i nod modules lo faccio al terminale perché faccio prima occhio che se li cancellate poi mi vanno nel cestino e i 300 meglio continuano essere occupati è svuotato il cestino e così via io cancello i nod modus ovviamente non funzionerà più niente adesso spero si si aggiorni forse qualche fa non è riuscito a cancellarlo no deve solo riaggiornarsi l'interfaccia va bene riapriamo il wix 6 no era wix 6 ok è sparito vabbè non si è aggiornato da solo va bene è sparito ovviamente non funziona più niente quindi se dovete passare il progetto vostro collega passato collega passatelo senza il nod modulo 300 mega di roba che non serve niente a meno che va bene è bene passarlo senza perché poi ci sono le cartelle i percorsi voi lo avevate in una cartella l'altro ce l'ha in un'altra e quindi si creano questi problemi che poi danno errori strani non si capisce cosa c'è in realtà non c'è niente di problema chiaramente non posso più fare npm start è ovvio perché non c'è non c'è più lo script cosa devo fare devo fare npm install ok perché c'è il pack json l'importante che ci sia il pack json che dice tutto quello che c'è da installare l'ha già fatto react per noi che vada bene e in più nel momento in cui io ho installato altra roba come ho fatto prima bustra per art bus trap eccetera se l'è scritto quindi con tanta pazienza forse meno di prima vediamo si ricrea tutta la nod modus l'unica cosa deve non è detto che scarichi se ce l'avete nella cache locale quindi ci sono altri 300 mega nostro angolo del vostro computer come che esce vabbè l'ha messo a posto quindi mi ha ricreato la nod modus che adesso per qualche motivo ma forse devo fare lo da queste ok mi viene fuori e poi a questo punto a questo punto riparte come prima quindi senza rifare npx creator act up e così via due avvisi visto che ho sentito nell'intervallo qualcuno che aveva problemi e può essere utile anche per chi ci segue da casa eccetera quindi li lascio registrati fate attenzione ad usare npx creator act up del react 18 come faccio a sapere se quello del 18 o no in realtà non lo posso sapere quindi la cosa più semplice è cancellare tutta la cache di npm quindi avrete una cartella speciale su linux e vi ho fatto vedere appunto qui dentro il punto npm su windows su mac ci sarà un'altra cartella da qualche parte cercate su internet npm cache cancellate tutto lì dentro rifate npx creator act up e lui scarica l'ultima quindi siamo sicuri che la 18 ok perché se non avete la 18 succede come a qualche volso collega che poi fate la prova e noi qui non abbiamo più fatto importare act perché dalla 18 non è più obbligatorio in realtà nella versione vecchia obbligatoria non vi funziona perché mi dice mancare act ok quindi questi sono tutti i problemi problemini se avete di questi problemini in laboratorio li guardiamo e quindi venite e in qualche maniera li risolviamo seconda cosa volevo dirvi appunto non fate mai il commento il nod modules il react creator act up c'è già fatto un gitignore che un file apposta di git che la prima cosa che fa è dire il nod modules mai da fare il commit mi raccomando è 300 mega di roba e non so quanti file quindi ce lo dovrebbe già fare il creator act up ma si sa mai date un'occhiata che diciamo se c'è se c'è il nod modules oppure in generale se quando fate il commit vedete se vi proponi fare il commit in migliaia di file c'è qualcosa che non va a una domanda ok grazie quindi sul pack json su riga 10 react ok se va installato come indipendenza 18 vuol dire che la 18 grazie mille così ci avanziamo di fare di cancellare se non c'è bisogno però giustamente magari qualcuno di voi a fare era curioso prima del di che uscisse le 18 fatto npa x creator act up e si scarica dal pacchettino localmente poi riesegue sempre quello è rimasto incastrato sulla 17 ok grazie direi che gli avvisi bastano non mi sembra ci fosse altro di particolare nel laboratorio c'è nell'intervallo scusate segnalato i vostri colleghi e quindi noi fondamentalmente qui avevamo finito il discorso e sostanzialmente adesso da adesso in poi parliamo di react quindi fino a fine corsa andremo avanti con react con tutti i vari aspetti che ci servono a costruire un'applicazione web e prima sul lato client quindi ci sarà i componenti e proprietà di cui diciamo qualcosa stamattina del jsx prossima volta lo stato sicuramente perché ha bisogno di una lezione intera e poi cominceremo eventi forum quindi interazione con l'utente poi gestione del caricamento dei dati del server l'autenticazione insomma quelle cose di base che ci arriverà che ci consentirà di costruire tutta l'applicazione e poi sarà finito il corso e avrete però almeno gli strumenti di base per creare l'applicazione web quindi andiamo a vedere 302 quindi quello che dobbiamo sapere sugli elementi componenti di react quindi andiamo a vedere come si creano adesso noi abbiamo preso un esempio fatto qualcuno l'ha fatto per noi però adesso impariamo le regole e tutto quello che è necessario sapere questa è la vista concettuale di tutto quello che andremo a toccare in realtà noi a noi interessano gli elementi in blu però per capire come questi si collegano tra loro ci serve capire che partiamo dal principio in cui si fa render di un elemento che è composto da un albero di elementi ok e questo elemento può essere con un componente che è quello che abbiamo visto prima cioè noi abbiamo fatto render di app che è un componente definito da noi il creator act app ci ha messo dentro quella rotellina che giravano ha scritto un pezzo di codice html noi l'abbiamo cancellato abbiamo messo la nostra roba ciao al bottone e così via ok quindi questo è il meccanismo nel quale ci andiamo ad inserire e fondamentalmente noi andremo a scrivere funzioni che definiscono un componente come abbiamo fatto prima function button function my button oppure a scrivere direttamente il jsx quindi il codice html che usa il componente quindi il tipo noi abbiamo scritto minore my button e abbiamo usato il componente ok quindi queste sono le due sintassi che andremo a usare e adesso parliamo in maniera molto più diffusa di questo allora un elemento react è un oggetto che descrive un componente in react oppure un nodo dom nodo dom virtuale noi parliamo sempre del virtual dom per ogni nodo dom reale quindi tutti i vari div in tutti i vari tag html div span a img e così via p h1 e così via table c'è il corrispondente nodo virtuale in in react e in più possiamo crearne noi di nuovi che si chiamano componenti ok quindi un react element è una rappresentazione di un elemento del dom nel virtual dom c'è una struttura dati no quello che in una tricola g chiameremo una struttura dati contiene l'informazione riguarda il tipo definito da me quindi col suo nome oppure già definito nel dom quindi i tipi di base le sue proprietà come abbiamo visto abbiamo dato una proprietà noi land il linguaggio ma ci sono le proprietà sue quindi gli attributi che ogni elemento a che quindi se voi prendete che so un paragrafo avrà una serie di attributi a table che ne so avrà una serie di attributi definiti dall'html e poi all'interno di questo tag ci sono i tag figli quindi possono essere i react componenti o degli elementi che rappresentano elementi elementari del dom quindi div span non so quello che volete p h1 eccetera ok notate bene che questi sono solo una descrizione di come costruire la pagina cioè abbiamo una struttura nella memoria che questo virtual dom da cui react parte per costruire la pagina non rappresentano elementi reali cioè non è come quando avevamo il riferimento nel laboratorio a un elemento del dove ci facciamo sopra come era il insert child come si chiamava il metodo adesso mi sfuggi questo momento e aggiungevamo un elemento direttamente nel dom non sono quelli sono una rappresentazione virtuale virtuale nel senso che non sono quelli reali visualizzati del dom il virtual dom da cui react parte per creare il contenuto visibile la funzione che crea questi elementi è la create element un metodo diciamo così statico di react che però noi non usiamo mai direttamente perché avete visto prima non abbiamo scritto react create element abbiamo solo detto che internamente usiamo usa questa funzione ok quindi tipo props children eccetera di per sé appunto diciamo queste slide sono un po un riferimento se voi andate aprire il codice ci troverete magari nella sezione che abbiamo detto di non toccare qui c'è la render non so non credo qui c'è no è nascosta e non lo vediamo in app app l'abbiamo già scritta noi quindi non lo vediamo va bene però di fatto nel momento in cui il il jsx viene tradotto in codice perché non possiamo eseguire de dell'html già scritta c'è questa traduzione vengono inserite queste funzioni nel codice ok che di fatto però noi non vediamo l'importante che sappiamo però cosa avviene sotto perché così ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo quindi nel momento in cui si crea un elemento abbiamo un tipo che ci dice che cos'è l'elemento se un tipo di base div h1 e così via o se un componente con le sue proprietà che possiamo definire noi tramite props e oppure sono già disponibili nel dom per certi elementi del dove ci sono già delle proprietà per esempio se io creo un a un ancor cioè link ci sarà già l'attributo href che diventa una props accessibile da react ok c'è solo c'è solo da fare attenzione a un paio di cose un po particolari perché ci sono due attributi che ci danno fastidio nel codice javascript una si chiama classe l'altro si chiama for che sono parole chiave di javascript e quindi quando le useremo dovremo usare class name html for ok quindi solo ricordarci questa cosa la seconda è un po meno usata perché si tratta si usano i form per collegare la label la prima il classe invece più usata perché nel momento in cui dobbiamo cambiare un aspetto abbiamo bootstrap sapete che aggiungiamo una classe quindi ogni tanto avremo bisogno di usarle ricordiamoci solo di mettere class name ma se non lo fate tanto babel quando fa l'operazione di traduzione si lamenterà e dovete solo ricordarvi che c'è questo problema ok gli elementi figli di un elemento react possono essere direttamente delle stringhe come abbiamo fatto che so p ciao mondo ciao mondo la stringa oppure possono essere altri elementi come abbiamo fatto prima abbiamo messo il my button o possono anche essere un array addirittura un array automaticamente sarà una lista di elementi messi allo stesso livello ok quindi non c'è niente di particolare da dire su questo se avete dei dubbi delle domande fermatevi insomma queste sono cose abbastanza credo scontate gli elementi dom sono sempre in carattere minuscolo quindi quando li scriveremo in jsx dovremmo usare carattere minuscolo mente per convenzione diciamo però ci aiuta se cerchiamo di seguire queste convenzioni perché come sempre se non le seguiamo poi cominciamo a complicare una cosa che di per sé semplice se vediamo un qualcosa scritto con la lettera maiuscola un componente se inizia per la maiuscola e quindi cerchiamo a tenerci a questo standard quindi i nostri componenti così come avete visto quello di rete booster per così via inizia con la lettera maiuscola perché un componente li possiamo combinare come vogliamo e tutto ciò ovviamente parte del virtual dom va bene quindi li componiamo ma non ereditano quindi nel senso che è l'annidamento che come in html descrive il contenuto non è che possiamo fare un componente che eredita un altro lo specializza e così via non si fa non si può reat non lo prevede cioè function nome del componente se c'era qualcosa di più specifico da fare in un componente ne facciamo un altro e facciamo un altro e poi il componente da cui volevamo ereditare chiamerà il componente nuovo e così abbiamo incapsulato la cosa ma lo facciamo facendo una funzione che incapsula l'altra quindi abbiamo il jsx semplicemente quando è ora di usare l'altro lo inseriamo come codice html ok quindi andiamo a vedere il jsx è perché è un po la chiave di tutto il discorso qui che è una sintassi alternativa al react create element che abbiamo visto che sarebbe estremamente scomodo che infatti non usa nessuno cosa sono sono dei frammenti xml dentro il codice javascript perché dico xml non html per dire che è un html ben formato xml è uno standard diciamo che include anche la html con diciamo a livello potremmo dire logico nel senso che l'html di fatto è un sotto insieme dell'xml l'xml è una maniera di descrivere dei contenuti con dei tag non solo i tag html quindi nel momento in cui usiamo nei tag il nome dei nostri componenti di fatto è xml non html perché non esiste quel componente sotto forma di tag html però dal nostro punto di vista dal punto di vista pratico vuol dire che tutti i tag devono essere chiusi ok se li lasciamo aperti bubble ci bloccherà esistono dei tag che non hanno niente dentro possiamo evitare di scrivere l'aperto chiuso con niente dentro la sintesi è quella dello slash alla fine per esempio qui adesso non c'è l'esempio vabbè pazienza che so sono tanti br slash non possiamo scrivere br aperta chiusa in jsx perché non è xml cioè non è un tag chiuso ok però per esempio ecco forse img img un po più comune quando mettete l'immagine poi dovete chiuderla ok bubble cioè questo traduttore ce lo trasforma in jsx nessun problema lo fa addirittura senza che neanche lo vediamo come vi dicevo lo fa in memoria mentre aspettiamo che la pagina si carica c'è bubble e tanti altri strumenti che stanno facendo questa operazione e se fallisce si bloccano ok quindi la traduzione è di fatto in create element con il nome chiediamo e tutti gli attributi diventano proprietà di un oggetto che ciò che c'è in mezzo diventano i figli poi sono una stringa può essere altri altri create element quindi altri elementi ok penso ci sia dopo comunque notiamo poi che i valori devono essere valori validi in javascript quindi string numeri ok se voglio che sia un numero devo metterci le parentesi graffe come come faccio per esempio nei template literal di javascript ok comunque su questo mi sembra che ci torniamo i componenti sono espansi durante il rendering nel senso che quando react trova un componente ovviamente non sa come renderizzare a livello di dom quel componente allora cosa fa chiama la funzione che abbiamo definito noi scriviamo my button capito ma cosa vuoi farci vedere col my button chiamo la funzione my button con le sue properties il return sarà quello che devo far vedere se ci sono componenti nel return chiamerò le funzioni di quei componenti se ci sono solo elementi base del dom ho finito di fare l'operazione perché sono arrivato ad avere solo elementi base del dom quindi div h1 table eccetera 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 e sono in grado di trasformare in un dom reale cosa che lo farà rearte per noi ok quindi ripetere la rearte ripete l'operazione fino a che solo nodi di tipo dove sono presenti cioè tutti i componenti vengono espansi perché il browser poi interpreta solo elementi dom ok la sintassi è quella che abbiamo già intravisto e si può usare dovunque si possa mettere un'espressione j6 j s valida quindi javascript valida perché perché alla fine babbel lo prende lo trasforma in codici javascript quindi è un espressione javascript di fatto ok quindi dovunque possiamo mettere un'espressione javascript possiamo scrivere del js x quando siamo in ambito react quindi ovviamente nei componenti ci mancherebbe abbiamo fatto apposta quindi nella parte figli dei componenti quindi tra il tag aperto e chiuso possiamo scrivere altro js x ovviamente ma possiamo addirittura non so quanto ve lo consiglio ma possiamo addirittura inserirlo dentro array oggetti e così via potremmo fare un array di elementi js x si può fare perché perché in realtà quello che stiamo facendo è prendere il riferimento degli oggetti che sono create creati col react create element ecco quindi come in tutte le espressioni magari ogni tanto può venire comodo per chiarezza usare parentesi tonde eccetera insomma fate quello che ritenete opportuno dal punto di vista della chiarezza javascript lo sapete ama essere sintetico come con le arrow function eccetera cerchiamo di va bene usarlo ma se necessario un paio di parentesi in più ogni tanto non guastano ecco il fatto che sia diventi tutto codice javascript fa sì che i valori e quindi i nomi dei componenti che usiamo devono essere definiti perché codice javascript come se avesse una funzione che non è stata dichiarata da nessuna parte definita da nessuna parte quindi se io faccio il componente fu ok aprendo e chiudendo il minore vuol dire che in quel punto del codice deve essere in grado di chiamare la funzione fu quindi o è definita prima da qualche parte nel codice in realtà anche dopo vabbè comunque in quel file oppure deve essere importata come abbiamo fatto prima il button di react booster l'abbiamo importato il nostro button che abbiamo fatto button.js l'abbiamo importato andiamo a vedere in app il nostro button l'abbiamo importato questo my button l'abbiamo importato perché poi quando scriviamo my button qui se non ho fatto l'import react va a chiamare la funzione my button e la funzione my button non c'è la funzione my button è dentro button infatti c'è scritto function my button se io lo tolgo forse l'abbiamo già fatto prima comunque una volta in più lungo asta is not defined cioè è una funzione perché tutto questo viene tradotto in codice javascript ok facciamo la posto così se ci serve dopo ok è successo a qualcuno come vi dicevo all'inizio di questo slot di lezione che gli mancava react perché perché c'è react punto create element questo fino alla versione 17 era vero e quindi infatti bisognava fare import react poi nella 18 avranno fatto qualche trucco per per evitare di farlo ok perché perché tanto era sempre da fare da tutte le parti perché gs x un po da tutte le parti allora insomma troviamo il mondo di evitare di farlo ok cosa posso scrivere nel gs x ecco devo fare un po' attenzione a come dichiaro gli attributi no perché perché poi queste cose diventano dei valori passati a delle proprietà di oggetti no perché sotto c'è il create element quindi non posso scrivere colo uguale blu senza le virgolette perché sennò blu mi diventa una variabile non è non c'è non è definita nessuna definita se una stringa devo metterci le virgolette singolo doppia fa lo stesso diciamo se siete coerenti è meglio però in questo contesto non cambia nulla se voglio un numero devo metterci le graffe se no viene preso cioè non viene preso come espressione javascript ok anche il true e false ok se voglio il true di javascript perché è l'attributo o la property è si aspetta un valore binario devo mettere le graffe quindi parole povere mettiamo le graffe un po su tutto tranne le stringhe qual è il bello di mettere le graffe che posso mettere anche un'espressione più complicata quindi posso mettere una variabile posso mettere un'espressione javascript di solito non troppo complicata per non diciamo complicare il codice eccessivamente perché deve avere un valore l'espressione deve avere un valore quindi diciamo che le cose più complicate che vedremo solitamente sono quelle con la sintassi punto interrogativo quindi un if semplice però qualsiasi espressione javascript è accettata ok nei children posso mettere di nuovo quello che voglio string altro jsx quindi altri codice html o anche componenti o una qualsiasi espressione javascript tra graffe ok la cosa interessante è che se l'espressione javascript ritorna un array di elementi jsx questi verranno tutti inseriti allo stesso livello e quindi diciamo questa è la modalità più classica per creare una lista di qualcosa quindi i vostri film del laboratorio apriremo il diciamo il tag del contenitore non so potrebbe essere un li se avete fatto una lista il table se avete fatto una tabella poi apriamo una graffa e prenderemo che so per esempio array map elemento freccia minore tr se è la tabella o li se è una lista la map cosa fa? mi crea un array un array di cosa? un array di elementi sono in javascript e sono in react col jsx posso direttamente mettere gsx e mi verrà fuori la lista di elementi quindi della lista di componenti da inserire allo stesso livello ok questa è una cosa molto usata ma la vedremo e poi un po' di esempi la vedremo se ce ne sia uno alla fine di questo set di slide posso anche passare una funzione diciamo che è un approccio un po' più complicato per fare cose un po' più complicate per ora lo lasciamo un attimo da parte il valore di ritorno in questa funzione viene messo come risultato però insomma parliamo prima delle cose semplici ecco abbiamo detto l'array possiamo metterne uno un array posso addirittura mettere dentro il jsx altro codice javascript quindi posso annidare jsx javascript javascript come meglio credo ok? perché alla fine in fondo è tutto javascript perché il jsx viene tradotto da babel in codice javascript no? semplicemente sono cose annidate vale la pena di dire che cosa succede nel momento in cui tiro fuori qualcosa di undefined null o falso o magari anche true boolean diciamo in generale bene questi non vengono convertiti in niente e questo è comodo posso andare strano ma è comodo perché? perché posso scrivere delle espressioni condizionali che decidono di inserire o non inserire un componente in maniera molto semplice senza scrivermi l'if sapete che javascript ama tanto questi giochini questo è un esempio apro la graffa user level uguale admin se sì l'espressione ritornerà il valore di questa funzione ma potrebbe anche essere un componente avrei potuto scrivere minore menu maggiore ok? anzi slash maggiore a seconda di come l'ho creato se voglio metterci la roba dentro o no e se ritorna false niente questa espressione prende il valore di false react lo prende lo ignora lì dentro non c'è più niente fine ok? quindi ho tramite una variabile la possibilità di far apparire e sparire di solito dei miei componenti perché è la cosa più utile nel virtual DOM ma funziona con qualsiasi elemento se è un elemento della lista perché non deve comparire perché è filtrato posso metterci l'espressione e decidere se farlo comparire o no ok? ecco fate solo attenzione che se volete inserire i componenti l'uno dentro gli altri o lo fate direttamente a questo livello container article eccetera quindi l'article è contenuto nel container l'avete già scritto voi qui e quindi non c'è dubbio su cosa bisogna fare ma se volete scrivere la funzione container diciamo in maniera che renderizzi ciò che c'è dentro che di solito è quello che volete dovete renderizzare props children ok? quindi i casi sono due lo scrivo container slash e quindi non c'è niente dentro e fa tutto il container o se voglio inserire i figli qui a livello del container devo ricordarmi che di qua devo poi fare render di props children sennò questo article sparisce ok? sono questa accortezza devo un attimo decidere come come ragionare eh? a livello del eh dei miei componenti come organizzarli ok? tutto qui quindi c'è questa props children che è automaticamente valorizzata a seconda di come annido eh i miei eh componenti ma piano piano prendiamo la mano eh con queste cose adesso stiamo cercando di dare un insieme di regole eh per per vedere tutto quello che è necessario sapere ci sono certi attributi che non hanno un valore eh quindi per esempio tipicamente nei form eh selected disabled e così via e solo per il fatto che li abbiamo messi hanno un certo comportamento eh diciamo che in JSX dovrei sempre dargli un valore è anche un po' più chiaro se lo facciamo eh selected true ecco le graffe mi raccomando senza le graffe non serve a niente anzi dovrebbe dare errore perché non è non è un valore eh ci va a cercare il nome di una variabile ecco diciamo questo era vero fino alle non so dirvi che versione di React in realtà di nuovo perché è vero che diciamo questo avere il valore sarebbe più pulito no? però siccome tutti sono abituati a fare in questa maniera eh diciamo che le versioni di React più recenti sono tolleranti e se non c'è l'attributo viene automaticamente inserito il valore falso no? questo è uno dei vantaggi di avere il virtual DOM no? nel momento in cui voglio diciamo fare un comportamento un po' diverso dal DOM reale basta che cambio il comportamento della libreria React e e faccio quello che voglio ok quindi se vedete un select uguale aperta graffa true ecco non spaventatevi perché deriva da questa diciamo gestione degli attributi del JSX in React commenti sembra una banalità eh purtroppo non è una banalità è brutto nel senso che è HTML ma non è HTML abbiamo detto va bene lo prende e lo trasfona i codici JavaScript quindi in realtà è JavaScript e quindi se vogliamo inserire un commento come facciamo vogliamo ci dà fastidio il bottone non possiamo fare così no? come come siamo abituati a fare in HTML questa roba qua non funziona ok questa non è HTML ok cosa dobbiamo fare? dobbiamo farlo diventare JavaScript tramite le graffe eh e così no? come si chiude sta graffa perché non è venuta ok questa roba funziona eh ovviamente non c'è più il bottone è sparito però non dà errore ok? da qualche parte bisogna bisogna adeguarsi eh queste sono le cose a cui appunto bisogna un attimo adeguarsi eh ok e questo l'abbiamo detto delle props bisogna stare a fare attenzione no del class l'abbiamo già detto ecco forse non abbiamo detto che ci sono degli attributi eh che sono che funzionano in HTML come tutto minusco come per esempio onchange onclick e così via vanno scritti con questa sintassi ecco il camel case ognuno ha i suoi modi di scriverlo eh quindi però per ogni attributo c'è il suo modo eh però fondamentalmente il camel case nel senso che la prima è minuscola e tutte le altre sono maiuscole ok e vale anche per il CSS e l'attributo style vuole un oggetto e quindi servono le doppie graffe perché la prima graffa apre lo scope javascript e la seconda crea l'oggetto javascript ok però sono solo dettagli nel senso che poi appunto c'è qualcuno lì vuole fare una prova cambia un attimo lo style mi fa style uguale e non gli va ecco come mai almeno l'abbiamo detto eh poi siamo sempre lì ad aiutarvi se c'è bisogno in generale vorremmo comunque evitare queste cose eh piuttosto fate il vostro stile CSS e aggiungete qualcosa sul class name insomma eh vedete voi eh ok questo questo è qualcosa che potrebbe tornarvi utile vi ricordate come funziona lo spread sugli oggetti eh bene alla fine le props sono un oggetto con una serie di campi di proprietà eh e quindi se eh diciamo dobbiamo passare una serie di attributi che sono già contenuti in un oggetto può venirci comoda questa sintassi eh anziché metterci lì e scrivere a manina component msg uguale eh welcome.msg aperta graffa welcome.msg chiusa graffa poi recipient uguale aperta graffa eh sì eh welcome.recipient chiusa graffa eh quindi anziché fare tutta questa scrittura espansa che di fatto è ripetitiva non voglio dire meccanica possiamo usare questo meccanismo dello spread quindi il jsx interpreta questo meccanismo dello spread e risolve per noi gli attributi e li passa come attributi al componente ce li ritroviamo nelle props del componente ok quindi quando scriviamo la funzione component ci ritroviamo props.msg props.recipient ok quindi ecco era qui a sinistra scusate l'ho detto a memoria comunque l'ho trovata qui a sinistra è chiaro che la scrittura più a destra è più semplice e questo capiterà spesso perché noi abbiamo tante cose da passare come proprietà ai componenti perché in generale soprattutto nei componenti di livello più elevato perché nei componenti di livello più basso magari c'è una cosa o due da dire ma ho finito però se i componenti sono di livello un po' più elevato magari hanno tre o quattro proprietà di cui uno o due la usano l'ora e le altre le passano avanti in quell'albero che vedevamo prima e quindi doversi mettere lì e elencarle è sempre un po' scomodo quindi noi qui diciamo con un po' di esperienza che abbiamo fatto in React cerchiamo di darvi due dritte per essere più efficienti possibile quindi qui è un esempio di quello che dicevo quindi const button questo è il solito bottone questo è un componente perché perché è una funzione è una funzione che prende come parametro props è solo scritta sotto forma di arrow function ma si può scrivere sotto forma di arrow function non c'è nessun problema cosa deve ritornare deve poi ritornare cosa bisogna renderizzare quindi ci sarà button questo button minuscolo è quello del DOM il virtual DOM mappato poi sul DOM reale con le sue proprietà quindi class name boh viene passato qualcosa vabbè ah no viene calcolato qui e viene messo come valore e poi e poi ci sono tutte le altre proprietà eh vi ricordate che si poteva con questa sintassi diciamo così con lo spray da sinistra adesso non mi ricordo più come se aveva un nome particolare vabbè comunque estrarre solo una proprietà da un oggetto ecco queste cose sono abbastanza all'ordine del giorno nello scrivere i componenti react perché abbiamo tante props e magari abbiamo bisogno di estrarre solo una e lasciarle altre in un altro oggetto e quindi nell'oggetto other ci finisce tutto quanto tranne kind e facciamo che prenderlo e passarlo ok questo è questo property pass through cioè passa tutto tranne quello che mi serve in questo componente ok quindi ok quindi qui isolo il kind e poi tutto il resto va avanti qui non c'è niente altro vabbè c'è non click non click va a finire sul button ok ci fosse del resto anche del resto andrebbe direttamente a finire sul button eh quindi non lo so un altro evento on change beh sul button non c'è l'on change cioè non serve a niente ma non so qualsiasi altra cosa che vi possiate sognare eh ok eh va bene questo reminder l'abbiamo già detto prima l'abbiamo appena visto class name perché class è una parola chiave riservata di javascript eh eh va bene l'entity insomma qui con un po' di pratica diciamo risolvete tutto eh non c'è niente di particolare se non sapete come sempre andiamo un attimo a cercare su google su qualche motore di ricerca cercate di capire il meccanismo e piuttosto poi a un certo punto una volta che avete l'idea su come fare andate a consultare il manuale cosa dice eh ci sarà il reactjs.org il manuale e andiamo a cercarli sopra ma che riesce già direttamente come 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 valore di cioè come scusa come risultato della ricerca ok quindi eh due parole sul componente poi mi sa che per oggi siamo sì abbiamo quasi finito eh qui funziona sì se avete dei dubbi fermatemi eh io ripeto la domanda per chi ascolta in registrato anche per voi che ascolterete forse allora i componenti l'abbiamo visto prima e dichiararle molto facile si crea una funzione eh quindi creare un componente funzione che prende come parametro le props ok di solito scriviamo props come nome del parametro però è ciò che viene passato potete dare di nuovo il nome che volete ma è bene attenersi a questo diciamo standard perché così capiamo subito il codice deve ritornare gli elementi che devono essere renderizzati ok sotto forma quella che volete però diciamo la cosa più comoda è il JSX eh potreste anche scrivere react create element bla 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 ma mi hanno detto ci complicarà la vita usiamo il JSX JSX che possono essere altri componenti come in questo caso vedete che c'è la maiuscola e quindi vuol dire che se abbiamo seguito le convenzioni sarà un altro componente oppure c'è la minuscola è un elemento del DOM e quindi non c'è bisogno di definirlo perché react ce l'ha già dentro ok se usate la freccia è già automatico il return se non la usate ci vuole il return ricordavete solo che la funzione deve ritornare qualcosa eh se vi scordate il return qui dentro uscirà un undefined e non viene fuori niente ok perché abbiamo detto undefined null eccetera non renderizzano niente ok ci prendete la mano in laboratorio se c'è un problema ci chiamate e magari appunto scontrati una o due volte col problema avete ve l'ho ricordato dunque deve essere una funzione pura ed impotente nel senso che se la chiamate più volte il risultato deve essere sempre lo stesso cioè non potete definirvi una variabile e mantenervi uno status senza dirlo a react se dobbiamo farlo lo dovremmo dire a react dovremmo usare come vediamo la prossima settimana gli ux per creare uno status eccetera 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 perché se no react si aspetta che quella funzione ritorni sempre la stessa cosa non funziona così siccome le props non sono cambiate non ve la chiama e voi quello che volevate fare non lo fate no? perché la funzione non viene chiamata abbiamo delle regole da seguire queste sono le regole di react queste sono più specifiche del framework react ok? però appunto c'è la necessità ogni tanto di tenere lo stato e vedremo come si fa però la prossima volta ecco alcuni consigli per creare componenti è un po' come programmare quindi come in un programma che scrivete da zero e volete organizzare un po' bene a un certo punto scriverete una serie di funzioni magari iniziate da un'unica funzione ma poi mano a mano che scrivete il codice vi accorgete che sta diventando lunga grande e così via prendete un pezzo che ha un significato e lo mettete da parte in un'altra funzione e qui lo mettete da parte in un altro componente no? di solito questa organizzazione ci viene abbastanza naturale perché la pagina è già comunque suddivisa in componenti pensate al laboratorio avete la parte principale dove c'è la lista quindi potrebbe esserci un contenitore di lista più la lista e ogni elemento essere un componente che visualizza il film poi avete un menu un menu è un altro componente in cui ci sono dei bottoni cliccabili insomma potete farvi il vostro componente bottone perché magari avete necessità di fare qualcosa di fare il bottone particolare ricordarvi dentro non so qualcosa farlo colorare in qualche maniera non so qualsiasi cosa se no cominciate col bottone standard del DOM e poi andate avanti quando vi accorgete che c'è una vostra necessità in più creerete il vostro componente che poi dentro userà anche quello standard del DOM quindi sarà sempre un button però ha poi la funzionalità in più di cui avete bisogno come per esempio la lingua abbiamo visto prima c'è la profs la lingua il bottone standard non ha la lingua ok quindi nel momento in cui i componenti diventano troppo complicati cercate diciamo di riorganizzare il codice per avere dei componenti un po' ragionevoli non eccessivi non è che abbiamo una misura andiamo lì col centimetro a misurare quante linee di codice servono per ogni componente che fate però diciamo che soprattutto pensate all'esame non è che ci aspettiamo di vedere i componenti da mille linee in cui soprattutto diciamo ci sono funzionalità differenti tutte dentro lo stesso componente perché poi magari la mille linee sono già tante però magari diverse centilane di linee servono perché magari andate a capo spesso perché ci sono avete tenuto un componente che si poteva portare fuori magari l'avete tenuto lì per un comodità perché così non c'era da passare l'endel della funzione e così via va bene però senza eccedere cioè non possiamo vedere un'applicazione che sia un file unico o due ecco diciamo per l'esame tipicamente ci sono almeno 5 o 6 file ecco diciamo così se vogliamo dare proprio una regola di base cioè di cattiva ecco però ecco per l'esame scusate per il laboratorio cominciate a vedere voi cominciate da una cosa semplice poi vi accorgete che mano a mano che andate avanti comincia a presentarsi la necessità di spezzettare un po' le cose ancora questa cosa che vi serve per i laboratori in realtà il primo laboratorio non mi ricordo più se c'è già da implementare i componenti con la lista o no dovrei andare a verificare vabbè comunque tanto ne dobbiamo parlare abbiamo detto che all'interno del jsx noi possiamo mettere come valore anche un array ok un array di elementi possono essere elementi DOM possono essere componenti quello che vogliamo come sempre sono intercambiabili dal punto di vista di React quello che dobbiamo fare attenzione è questo nel momento in cui creiamo una lista di elementi React ci impone questa restrizione questa è una restrizione di React abbiamo necessità di passare un attributo che si chiama key chiave unico per identificare ogni elemento della lista ok non è fatto in questo esempio è fatto in quello dopo ok qui vediamo come si fa perché perché diciamo perché nel momento in cui abbiamo la necessità di capire se è cambiato qualcosa nel virtual DOM per andare a capire se devo ridisegnare qualcosa nell'interfaccia se c'è un identificativo unico per ogni elemento nelle liste di elementi nel virtual DOM React fa prima siccome avevamo detto a inizio lezione è un problema di performance andare a aggiornare la interfaccia soprattutto se la dovesse ridisegnare tutto è chiaro che risolve il problema alla radice ma no ma non si può ridisegnare tutto ogni volta che succede qualcosa il browser cosa fa sta lì solo a eseguire il vostro codice che ridisegna tutto quindi React ha questo virtual DOM fa la differenza e ridisegna solo ciò che è cambiato quindi ricrea distrugge ricrea solo ciò che è cambiato per farlo in maniera efficiente sulle liste ha bisogno di questa chiave questa chiave però la potete decidere solo voi perché solo voi sapete se quel elemento della lista è cambiato oppure no quindi se è cambiato dovrà avere una chiave diversa altrimenti manterrà la stessa chiave React se trova la stessa chiave non lo ridisegna se trova una chiave diversa lo ridisegna ok quindi come facciamo a metterlo è un attributo un attributo chi uguale qualcosa aperta graffa e ci mettiamo quello che vogliamo noi ok nel vostro caso nei casi più semplici createlo in laboratorio all'inizio lo dovremo creare noi perché non abbiamo un identificativo unico o nel nei vostri film avete creato un oggetto e anche un id e sapete che è unico e allora va benissimo con l'id oppure dobbiamo recuperarlo in qualche maniera in generale ce lo abbiamo perché in generale carichiamo delle informazioni da un server dove nelle tabelle queste informazioni hanno un identificativo unico ce lo portiamo dietro lo possiamo tranquillamente usare nell'applicazione ok dobbiamo solo fare attenzione che questo identificativo sia unico attenzione solo nella lista non c'è bisogno che sia unico nell'applicazione solo in quella lista perché poi react fa differenza tra le varie liste che ci possono essere in giro in quella lista deve essere unico ok se non c'è piuttosto lo create ok occhio però che se è uguale a prima quindi ridisegnate la lista e ricreate lo stesso id quel elemento non per react non è cambiato ok però questo di solito non dovrebbe essere un problema no nel senso che nel momento in cui avremo il server il server avrà il suo identificativo unico per ogni elemento ok quindi la unicità è richiesta solo nella stessa lista e poi c'è questo piccolo dettaglio piccolo per modo di dire nel senso che purtroppo purtroppo o per fortuna non so dirvi secondo me purtroppo però su punti di vista la chiave non è disponibile come props quindi non potremmo scrivere props .key ok perché probabilmente rafter non vuole che si paciocchi con questa chiave diciamo così quindi se noi abbiamo bisogno dell'identificativa ce l'abbiamo bisogno di recuperarla nel nostro componente nell'elemento perché non solo visualizziamo con motivo qualsiasi dobbiamo passarlo separatamente come ulteriore proprietà o attributo ok perché chi lo usa react se lo riserva per per sé ok ultima cosa poi magari facciamo l'esempio ecco frammenti allora c'è ancora un'ultima cosa che dovete sapere sulle funzioni che definiscono i componenti react non si può ritornare una lista di elementi si può ridonare sono un albero di elementi con una singola radice cioè in parole povere appunto una lista di elementi allo stesso livello non la possiamo ritornare perché è fatto così allora come facciamo a risolvere il problema se non è un problema per il contenuto possiamo mettere un div un div sapete un contenitore diciamo trasparente però poi ci compare nel dom questo div quindi se noi avevamo una lista di componenti che non vanno visualizzate in un blocco non posso mettere un div perché il div crea il blocco ok è vero che lo posso far sparire trafficando nel css e così via però insomma comincia a diventare scomodo allora quelli di react si sono inventati un meccanismo questo meccanismo si chiama fragment ok esiste un nodo speciale che si chiama react.fragment in realtà poi la sintesi è molto più breve perché esiste la versione abbreviata che è questa qui aperta chiusa qua no aperta minore maggiore ma parentesi acuta minore maggiore vuoto è il fragment cioè è un elemento che racchiude degli altri nel virtual dom ma che poi nel dom vero non compare quindi non mi crea il problema di farmi il blocco per il layout e così via ok però è obbligatorio nel momento in cui voglio ritornare più di un elemento dallo stesso componente allo stesso livello perché se ce n'è uno che poi ne racchiude altri il problema è già risolto il fatto è che devo avere una radice singola no e quindi questo è il meccanismo ok quindi io se quindi adesso qui abbiamo finito ma visto che abbiamo proprio due minuti se vado nel mio esempio che sta funzionando adesso no perché perché avevo messo il commento quindi togliamo il commento ok va bene se vado nel mio esempio nel mio my button quindi nella mia funzione facciamo facciamo così sulla i faccio una cosa breve perché ci manca il tempo ma ciò che faccio return all'argo ritorno così e volessi fare due bottoni facciamo due bottoni ovviamente sto un po' rompendo l'applicazione no cos'è successo rettore ha messo il punto no che mi è successo perché non va qui bisogna sempre vedere cosa gli è preso ah vabbè me lo dice già qua GSX must have parentele io volevo salvarlo e farvi vedere l'errore vabbè ok a 10 GSX elements must be wrapped in an enclosing tag ti suggerisce già la risposta ok allora ci mettiamo questo ok ah ok adesso poi adesso poi il Visual Studio Code spero prima o poi si accorgerà che va tutto bene si ci mette il suo tempo ovviamente ho fatto un po' pasticcio adesso ho messo due bottoni no però era per farvi vedere questa cosa occhio che questa cosa è lo stesso problema delle liste sono due di fatto praticamente questa è una lista quindi anche qui potrei mettere chi che so uno e chi due adesso io lo faccio qui sul bottone perché non posso mettermi cioè per motivi di tempo non posso mettermi a fare la lista gli esami cosa usavamo noi o i film eccetera no però diciamo qui non protesta almeno non credo chissà se lo facevano nella console date sempre un'occhiata anche alla console è lavorata con la console aperta che non è mai male facciamo un po' di pulizia ok va bene vedete non è che vi cambia niente lo avete messo avete facilitato il lavoro a react certe volte sugli array diciamo sugli array vi viene fuori il problema perché diciamo l'array viene generato al volo qui sui componenti se li mettete voi forse riesce a distinguerli da solo bisogna un attimo a vedere il manuale comunque fondamentalmente abbiamo provato a fare i primi componenti con react partite da questo esempio ci giocate sopra io credo che nel laboratorio non ci sia ancora da fare non abbiamo la versione finalissima ma quasi se mi date un secondo ve lo dico e poi finiamo l'abs uno a non c'è ancora da creare i componenti ok quindi mettiamo app in app scriviamo però il jsx mettendoci i film ok avremo la struttura dati facciamo un map di per sé basta fare un map in ogni e nella callback ritorniamo al jsx ok quindi il laboratorio di giovedì è veramente semplice però iniziamo semplici in maniera da riuscire ad avere tutti incamminati ok giovedì c'è il laboratorio ci sarò io per i due slot i primi due slot non c'è il professor Servetti che ha un impegno ma non fa niente tanto c'è sempre qualcuno per il terzo slot invece c'è sempre il professor Sainz ok basta così se avete dubbi o domande sono qui altrimenti ci vediamo giovedì ok grazie e a presto